Finché sono stata signorina, mi è toccato di fare il pane in casa. Questo voleva nostra madre e questo bisognava fare. Non per economia, che grazie a Dio allora si era ricchi, più ricchi di quanto ci si credeva, ma per tradizione domestica. E le tradizioni domestiche erano in casa nostra religione e legge. Così scriveva Grazia De Leda in uno dei suoi racconti intitolato semplicemente Il pane. In Pani Antiguo, opera prima di regista Simone Manga, la tradizione del pane si intreccia con la storia di due famiglie unite nel matrimonio dei propri figli, accompagnandoci attraverso la Sardegna agropastorale degli anni 50. Sono le musiche dette aziende di Nicola August, autore della colonna sonora del film, ad accompagnarci lungo il percorso incantato che pervade l'intera pellicola, trasportandoci in quel mondo di ricordi che tutti potremmo facilmente ritrovare nelle diverse scene. Questo è, diciamo, l'auspicio che questo documento appunto possa in qualche modo essere veicolo divulgativo di quello che è appunto la nostra identità, possa in qualche maniera preservare anche quello che è la storia, la cultura di questo territorio, ma non solo di tutta la Sardegna. Dio è intrami e ruga e oro, che pizzi non rie, bello es ischida al ducoro. L'incitore sono Rosanna Collu e Ornella Cogotti, che hanno fatto un lavoro di ricerca incredibile e molte delle cose che poi si vedono nel film loro le hanno vissute da bambine, quindi stanno tramandando la loro memoria storica. Le mani delle donne, il pane che prende forma, la ratura dei campi, il gioco dei buoi, l'imbalanza del corteggiamento. C'è proprio tutto nelle straordinarie ambientazioni del film di Simone Manca. E allora sarà facile per ognuno di noi ritrovarsi all'interno della storia, mentre il ricordo di vecchi sapori, profumi e abitudini vissute da bambini ci trasporteranno in quel libro da sempre agognato da tutti, ormai diventati adulti, ma nell'animo ancora bimbi.